I miti greci sono magici, riescono a parlare contemporaneamente e con mente contemporanea di chi siamo, di come ci piacerebbe essere e di chi non sappiamo nemmeno di essere. Ci fanno vivere in greco in quel desiderio di cercare di conoscersi e conoscere senza accontentarsi, svelando le nostre maschere, i nostri limiti e le nostre risorse e ci insegnano a pensare in greco, affinando lo sguardo visionario, capace di vedere anche ciò che ancora non esiste, con fantasia, parola che per i greci vuol dire vedere quello che ancora non c'è, come quando da bambini facciamo brillare la nostra immaginazione per vederci già adulti oppure in un regno fuori dalle pareti della nostra stanza, un nodo magico che ci lega all'universo da cui siamo nati. Ho voluto leggervi questo passo tratto da Il nodo magico di Cristina dell'Acqua perché secondo me questa lettura fa capire l'approccio assolutamente legato al presente della lettura dell'Odissea che ci propone l'autrice, una lettura certamente rispettosa dell'originale ma che ci mostra un aspetto dell'Odissea che è meno sottolineato ad esempio sui libri di testo, cioè vedere l'Odissea come non solo un grande viaggio, una grande avventura, la storia di un uomo ma una storia di tanti incontri, legami che si fanno e poi si disfano e in questo che è un percorso anche alla scoperta dell'amore, non soltanto verso di sé ma verso gli altri. Proprio per questo e per il taglio inconsueto pieno di spunti di riflessione presente nell'opera ho pensato di invitare al nostro salotto letterario Cristina dell'Acqua che ha accettato e vi lascio quindi alla nostra conversazione avvenuta poco fa. Buonasera lettori, sono molto contenta di essere qui insieme a Cristina dell'Acqua per parlare del suo nodo magico uscito da poco per Mondadori e non potevo lasciarmelo sfuggire perché come sapete molto spesso ci soffermiamo sui classici e sui libri che parlano dei classici e che ce li propongono in modo nuovo. Spesso quando parliamo e pensiamo dell'Odissea ci vengono subito in mente avventure fantastiche a volte terrorizzanti, viaggi nell'ignoto e verso l'inatteso. Ecco nel tuo libro Cristina ci mostri un altro aspetto molto presente ma spesso che passa ingiustamente in secondo piano nella Vulgata, quello degli incontri con donne che fanno sentire Ulisse innanzitutto un uomo e solo in secondo luogo un naufrago o un eroe e hanno questi incontri una forza trasformativa. Ce ne parli? Innanzitutto buonasera a tutti. Certo, allora questo libro innanzitutto è un viaggio nell'Odissea e quindi ho scelto di raccontare e così rivedere anche alcuni versi coi miei occhi diciamo da un certo punto del ritorno di Ulisse in poi, in particolare il libro si apre proprio con la sua seconda rinascita che secondo me è una scena meravigliosa, cioè il momento in cui esule, naufrago dall'isola di Ogigio dove era stato per sette anni da Calipso, Ulisse arriva alla terra dei Feaci e di Nausicaa e questo inizio mi è piaciuto per diversi motivi perché ci sono affezionata se vuoi da studentessa, l'avevo forse amato già da studentessa ma anche dal punto di vista del racconto che merita due parole. Allora Omero, chiunque esso sia, ci racconta proprio di quest'uomo che è stato salvato da un naufragio grazie all'intervento di due divinità, l'Eucotea che gli ha regalato un mantello magico sul quale potrà appunto navigare a prodare e Atena che è la dea che lo protegge per tutto quanto il viaggio, che lo diciamo gli regala un sonno ristoratore perché possa essere il più presentabile possibile quando arriva all'isola di Scheria. E secondo me con grande perizia c'è la descrizione di quest'uomo navigato da ogni punto di vista che non è più l'eroe della guerra di Troia, è un naufrago solo che ha già avuto una buona parte di avventure con una serie di mostri e arriva nell'ennesima terra sconosciuta e questo è un aspetto della narrazione. L'altro aspetto ma davvero con una perizia proprio narrativa che secondo me colpisce è una donna, una ragazza nausicaa che è la figlia del re di quest'isola che nella notte immediatamente precedente, cioè mentre Ulisse stava arrivando proprio sulle sue coste Atena gli arriva in sogno, Atena che è la stessa che ci fa riposare Ulisse e gli arriva in sogno per farle capire, per preparare il suo animo davanti all'arrivo di un uomo che probabilmente nelle sue intenzioni cambierà la sua vita. Allora questo momento che segna da una parte una seconda nascita cioè io nel libro dico Ulisse non lo sa ma quando esce dal mare e quindi quando è naufrago dopo questo con addosso o comunque sia sopra questo velo magico lui ha una seconda nascita perché poi arrivato in quest'isola avverranno le cose più importanti sostanzialmente di questa parte del ritorno e poi ci torneremo. Dall'altra parte quindi un uomo navigato con l'esperienza, la sofferenza, il dolore, un esule sta cercando la sua Itaca. Dall'altra parte questo fiore di giovinezza, una ragazza proprio nel suo sbocciare io dico l'ognuna di noi in quella fase lì della vita che guarda con la freschezza della sua età e della sua esperienza a questa scena e quello che mi piace anche notare è come sono raccontati perché visti dal di fuori sono quasi imperturbabili, no? Lui per quanto nudo e coperto di salsedine, Maomer dice come un leone di montagna e lei ferma come una regina proprio con la sua postura eppure sono due mondi innanzitutto assolutamente strani che si stanno incontrando in quell'attimo che a me sembra, a me ricorda tanto quello che per forza deve essere successo almeno una volta nella vita di ognuno di noi in quei momenti che poi a ritroso capisci quanto erano importanti e quanto erano particolari quindi due che sono uno di fronte all'altro e si studiano per poi proseguire la storia e poi se avremo modo la racconteremo però quello che proprio mi colpisce è il modo in cui questi due personaggi vengono proprio messi uno davanti all'altro lui e poi dico quest'ultima cosa lui che colpisce subito per quello che è il retaggio della sua immagine c'è un uomo che ci dice Omero non era certo bello a vedersi ma le sue parole erano come fiocchi di neve che io l'ho sempre trovato una similitudine di una bellezza incredibile e utilizza subito questi fiocchi di neve per tranquillizzare la sua nuova ospite perché non capisce ancora dov'è e Nausicaa che sicuramente è colpita come lo sarebbe probabilmente chiunque come lo è stato chiunque e maggiormente nella sua giovinezza ma che è una ragazza giovane ma non debole molto forte nella sua posizione nel suo stare davanti a questo estraneo che ci tengo anche a dire accoglierà, porterà nella sua casa quindi dai suoi genitori quindi nella reggia dove verrà accudito ancora prima che si sappia chi è con questo senso di ospitalità che per i greci era un valore e quindi questa è la scena di apertura del libro che mi piaceva proprio partire così ecco ti credo anche in questi giorni ci parla molto questo bisogno di rinascita c'è poco da fare per cui forse tutti vorremmo a un certo punto sbarcare lì e ricominciare però a parte questo hai fornito tantissimi spunti di riflessione allora parto da una cosa che mi ha molto colpito già quando l'Alessi all'epoca vabbè del liceo ecco il sogno tu parlavi di questo sogno in cui Atena avverte Nausicaa e la spinge a andare il giorno dopo proprio lì per questo incontro ecco il sogno per i greci ha anche una funzione particolare no? ed è raccontato in modo particolare ce lo dici? sì perché nella è veramente una cosa particolare e meravigliosa nell'inizio del percorso della storia della nostra letteratura Omero immaginava Omero che immaginava il corpo nostro l'uomo omerico come un insieme di arti e di parti di noi che cooperasero per costruirci tutti quanti basti pensare che Soma che è la parola che vuol dire corpo che è in tante parole italiane non so psicosomatico per esempio o tratti somatici Per Omero indicava solo il cadavere così come la psiche che per noi è la psiche e sappiamo bene che cosa poi rappresenta da un certo punto del nostro pensiero in poi Per Omero era un soffio vitale che teneva che ci tiene vivi è quel soffio che ci abbandona quando noi quando noi moriamo sostanzialmente allora in questo ragionamento Omero immagina che i sogni non si facciano ma si vedano e io lo trovo geniale perché è insomma questa meraviglia da qualche parte che abita la nostra testa i nostri pensieri mentre noi siamo in ermi e dormiamo allora lui immagina usa proprio il verbo vedere cioè tutti i protagonisti vedono dei sogni e di solito sono delle divinità che racconti che vanno a visitare la persona addormentata e ammoniscono oppure redarguiscono o danno consigli in questo caso raccontano a Nausicaa che insomma svegliati domani è una giornata importante puoi trovare l'uomo della tua vita ma al di là di questo è questo meccanismo che io trovo geniale perché pur ovviamente non avendo gli strumenti ancora espressivi per esprimere questa profondità ma la intuiscono assolutamente e io la trovo un metodo geniale ecco assolutamente questo racconto che arriva dall'esterno in qualche modo racconto che arriva dall'esterno esatto passa dalla vista ma poi li avvolge tutti quindi molto bello molto pervasivo e poi dicevi Atena mi ricollego allora da Atena parliamo un attimo anche degli dei gli dei sono onnipresenti lo sappiamo bene come già abbiamo visto anche nell'Iliade ma in un modo che forse noi oggi facciamo un po' fatica a concepire ecco anche a scuola questa è una delle cose per me più difficili da spiegare ai ragazzi perché con la mentalità di donne e uomini moderni si fatica a capire quanto condizionassero le vite dei protagonisti delle opere omeriche cosa potremmo dire per far capire meglio questa presenza molto insidiosa a volte anche guarda hai perfettamente ragione perché è vero che è un aspetto che si fa fatica a a penetrare e quindi anche a passare io penso che si possa dire questo cioè che l'idea che l'uomo che Omero aveva degli dei era innanzitutto antropomorfa no? quindi questo era già un elemento che in qualche modo avvicinava i due mondi cioè gli dei erano sostanzialmente degli esseri umani cioè con l'aspetto degli esseri umani ingigantiti nelle caratteristiche che potessero essere positive o negative ma ingigantiti e questo è il primo aspetto il secondo aspetto pensiamo ad esempio ad Atena no? il secondo aspetto è quello che si vede moltissimo nell'Iliade come dicevi ma anche nell'Odissea c'è è che sono come posso dire io la vedo così sono i punti del destino d'accordo? sono proprio gli elementi che la vita mette davanti a Ulisse a noi per per dare una visualizzazione al proprio destino Poseidone che era la divinità avversa a Ulisse che quindi gli causa naufragi gli causa tutte le peripezie che insomma sono costate quello che sappiamo sino all'ultimo Poseidone gli è contro Atena che invece è la dea che parteggia per lui e ha quasi le sembianze di un grillo parlante a volte interviene anche in momenti decisivi quando poi lui rincontra Penelope per aiutare le due le due figure a ritrovarsi e persino ad essere più belle perché si possano rivedere sono due persone che non si vedono da vent'anni e in qualche modo io credo che un elemento che hanno queste divinità è un po' quello del sogno cioè quello di dare una visualizzazione a quelli che sono moti irrazionali quelli che sono gesti sono anche della natura anche del mondo a cui si cerca di dare una spiegazione in fondo sono proprio senza in fondo sono la manifestazione di questo destino e la visualizzazione di quella che è la nostra eterna lotta il rapporto con il nostro destino assolutamente anche il rapporto con la morte perché anche se non è uno dei temi importanti del tuo libro però è inevitabile che se ne parli visto che più volte Ulisse rischia rischia o i suoi compagni come sappiamo purtroppo muoiono ecco la concezione della morte anche questa per i greci era diversa da quella poi che abbiamo noi cosa ci dici? Sì una concezione diversa che se dovessi proprio sai come si dice pistola alla tempia scegliere due momenti che ci aiutano a guardare dentro questo mondo omerico e che poi forse insomma è la paura di tutti noi questi due momenti sono il primo quando Ulisse non in ordine di tempo ma in ordine di importanza il primo quando Ulisse fa la sua discesa nell'Ade dove lui va proprio per incontrare Tiresia per essere rafforzato diciamo sulle sue speranze nel futuro sa che chiede le informazioni che a lui servono per sapere che a Itaca Penelope c'è ancora lo sta spezzando i genitori insomma ricostruisce il suo mondo però oltre a incontrare tantissime figure del mito che lo rimettono a posto ognuna con un racconto cioè anche Ulisse ha bisogno del mito c'è la mamma di Edipo che diciamo racconta il suo di quello che è l'amore per questo figlio che in Omero nell'Odissea non c'è quello che poi succede nella tragedia e nella storia che sappiamo dell'impiccagione e tutto qua e dell'incesto però c'è l'immagine di questa mamma che soffre per un figlio morto incontra Achille incontra Gamennone tutte persone che lo ricompongono ma secondo me il punto centrale è l'incontro con la madre quello secondo me è meraviglioso e allora Ulisse non sa che la madre è morta e la madre si trova negli inferi la madre si spaventa come vede il figlio perché è convinta che lui sia lì perché è morto durante la guerra di Troia e quindi in questo incontro dove le anime per poco tempo riprendono vita e memoria soprattutto memoria esatto parola centrale memoria allora la madre racconta che lei è morta di dolore perché non sapeva più cosa fosse del figlio eccetera e poi secondo me c'è questa la scena che termina dopo che si sono parlati in questo tentativo di abbraccio che non può avvenire perché i vivi non possono abbracciare le ombre però io e non solo in quella scena si vede un figlio che fa pace col concetto di morte e solo una mamma può raccontarti in un viaggio immaginifico che cosa sia la morte solo una mamma può darti una cosa di questo genere a mio modo di vedere e per i greci poi amore e morte erano due aspetti talmente insondabili talmente profondi talmente spaventosi che erano molto ben affiancati quindi questo è un po' il primo punto il secondo che secondo me è magnifico è quando lui si trova dove dice come dicevamo prima con Calipso nell'isola di Ogigia e Calipso pur di averlo per sé gli offre quello che apparentemente è quello che tutti vorrebbero cioè l'immortalità che lui rifiuta rifiuta va bene rifiutarlo possiamo anche capirlo non è l'immortalità che vuole Ulisse è l'eternità che è un'altra cosa ma in questo rifiuto lui mette anche inserisce delle parole talmente belle per Penelope che io gli ho dedicato una parte apposta perché in quel momento lui nel rifiutare una dea cosa che non era facile fra l'altro dea meravigliosa bellissima quindi non esisteva un momento perché oltretutto essere immortali voleva dire essere a riparo anche dalle malattie da tutto lui le dice guarda io lo so che tu sei divina immortale bellissima so che Penelope non può competere con te perché è una donna che insomma nel frattempo sono anche passati vent'anni ma io quello che rivolgo è il mio mondo allora davanti a questa affermazione che io all'inizio di quel capitolo ho messo dei versi una riflessione presa dal libro di Goliarda Sapienza che dice che a un certo punto parlando di una persona dice che le rughe che ha qui sono due parentesi del suo sorriso ecco io quando penso a queste parole di Ulisse a me vengono in mente queste parole cioè l'idea di un ritorno che non è cioè di un ritorno veramente a quello per cui tu sei al mondo che non è essere immortale sano bello senza malattie ma è vivere puoi rendere la tua vita la migliore possibile per te per i tuoi figli per i tuoi cari per la tua famiglia ecco questi due punti a proposito di morte e immortalità secondo me sono da rileggere perché sono meravigliosi meravigliosi lo dico un po' troppo spesso lo so però l'odissea è talmente bella che possiamo spenderli perché i miei alunni mi dicono quando comincio una cosa nuova mi dicono prof adesso lei ci dirà che è bellissima è vero purtroppo è vero però è così insegno cose belle se non ci siamo passione non arriva neanche quello quindi assolutamente ecco nel tuo racconto bellissimo che mi ha stregato come se stessi rileggendo il tuo libro tra le altre cose e quindi veramente grazie hai detto un'altra parola chiave e quindi non posso che collegarmi cioè il racconto il potere del racconto la madre che racconta Ulisse ma Ulisse stesso che è grandissimo narratore grandissimo narratore ci ricolleghiamo anche a Nausicaa e quindi alla sua permanenza lì ecco che potere ha questo racconto all'epoca e su di noi allora io penso che il racconto del racconto cioè quella parte dell'Odissea che siamo soliti intitolare i capitoli del grande racconto siano proprio quello che il racconto è a livello universale perché quello che avviene nell'Odissea è che lui ospite dei feaci e quindi dal re della regina che lo trattano proprio da per suo racconta ed è forse la prima volta dove lui si ferma e racconta si guarda indietro e racconta tutto quello che gli è successo sino al momento che lo tradirà tradirà le sue emozioni perché quando vedrà rappresentata la scena della guerra di Troia che è già diventata mitologia lui lì si rivede e nel suo pianto per quanto nascosto e sommesso però i suoi ospiti individuano anche l'identità ora è un elemento fondamentale perché se noi ci pensiamo primo non so tu cosa ne pensi ma nella vita comune è difficilissimo che noi troviamo il tempo l'energia o anche il pensiero di fermarci e riguardare indietro per pensarci e raccontare nel momento guarda che è un misto fra il tempo che non abbiamo ma anche l'idea che non abbiamo di farlo sì se racconti racconti qualcosa che è appena accaduto anche i social network ci stanno abituando a quello a un racconto o in diretta o in minima differita hai ragione è così mentre invece scavare guarda è quasi non è il mio mestiere non voglio dire cose che non conosco ma ha dei risvolti secondo me psicologici importantissimi cioè scavare scavare in un certo momento della tua vita come fa Ulisse che ti ha sicuramente fatto soffrire che ti ha portato delle gioie perché ricorda anche dei momenti belli passati sostanzialmente però questo scavare ci fa visualizzare quelli che sono le nostre paure le nostre gioie i nostri pensieri gli fa dare un nome è quello che farà anche una volta tornato finalmente da Penelope la prima notte possiamo immaginarcela quando si ricongiungono possiamo rimmaginarci una notte d'amore stellare ma soprattutto si raccontano soprattutto lui racconta questi vent'anni che è un modo per conoscersi per riconoscersi per per rivivere nelle parole nel racconto degli altri assolutamente anche con le donne che incontra oltre a Penelope c'è sempre gli altri scusami che noi facciamo agli altri scusami mi sono espressa male si capiva no e anche appunto comunque con le altre donne che incontra c'è sempre questo momento del racconto un racconto che proietta a volte fuori di sé a volte in sé è un momento di scambio molto bello e di dono forse anche oggi raccontarsi vuol dire donare una parte di sé assolutamente lo è lo è perché racconti anche dolori racconti fragilità racconti cioè ti metti a nudo no quando nel momento tornando all'isola dei Feace quando lui esce nudo dal mare era nudo ma non solo nei vestiti in quest'isola ti metti a nudo con tutte le tue fragilità che tu regali a qualcuno nella speranza che questo qualcuno poi ne faccia buon uso perché insomma quando ci si racconta eh no quando ci si racconta si diventa un po' come è vero come dei muri senza il nostro rifugio e questa cosa a volte può dobbiamo credo che sia giusto farlo ma dobbiamo avere l'accortezza di farlo con le persone a cui è giusto donarlo questo momento no perché assolutamente tu l'hai fatto anche con questo libro che è appena uscito perché è un mettersi a nudo cioè non l'abbiamo ancora detto ma ci sono tanti momenti in cui escono riflessioni che ci portano poi al nostro presente al nostro modo di vivere al modo di vivere l'amore ma in generale la vita tanti aspetti sfaccettati e anche tu prima citavi Goliarda Sapienza questa tua scelta in generale di apporre in esergo ai vari capitoli delle piccole pillole dei piccoli gioielli della letteratura è qualcosa che parla di te attraverso gli altri e ti chiederei proprio una riflessione su questa scelta allora è purtroppo così cioè purtroppo per fortuna non lo so allora scrivo saggi non saprei scrivere altro perché 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 non saprei prendere in mano una penna per scrivere un romanzo però io capisco che nel momento in cui si legge un testo che si ama e per me sono questi qui in qualche modo ti mettono a nudo perché cioè il tema è che sono libri io dico sempre i classici sono libri come gli altri libri no e ogni libro quello che ci colpisce quello che ci resta non è quello che è piaciuto all'amica ma è quello che quando noi leggiamo un capoverso una pagina è quello che ci fa pensare che è scritto per noi allora e questa è l'impressione molto forte noi a volte leggiamo delle cose diciamo no questo come fa a saperlo ecco no allora è intramontabile è intramontabile e i miti sono così se vuoi sono il mio schermo da una parte ma dall'altra parte i miti sono come gli esseri umani ci sono fatti è nei dettagli che si scovano secondo me gli aspetti più interessanti no e quindi sicuramente ci sono degli aspetti che mi toccano moltissimo non lo nego come donna non ho non ho problemi a dirlo come donna come donna che matura no e quindi sicuramente è così sicuramente poi questo tema dei legami è uno dei miei talloni d'Achille io non sono fatta per le separazioni non ce la posso fare mi capisco molto bene come tutti per carità certo certo ecco per chi è più traumatico ecco e poi allora hai detto legami allora diciamolo cos'è questo nodo magico del titolo che non abbiamo ancora spiegato allora il nodo magico nasce così dunque uno esiste davvero il racconto di un nodo vero nell'odissea e nell'ottavo libro una cosa di due versi quando Ulisse prima di andarsene dall'isola dei Feaci e dell'ultimo l'ultimo punto poi si sveglia a Dittaca la regina cioè la mamma di Nausicaa gli regala uno scrigno che egli lo esorta a chiuderlo perché è pieno di ricchezze di cose dice tu farai questo viaggio su delle navi particolari per cui ti addormenterai e magari nel sonno potresti perdere tutto allora gli porge questo scrigno come se fosse la sua vita e lui lo lega e l'autore dice e fa vado più o meno a memoria ma dice fa il nodo il nodo complesso che gli aveva insegnato tanti anni prima Circe compare solo qua questo verso solo qua allora uno sicuramente può essere tranquillamente il frutto del fatto che l'odissea è frutto è un'opera orale quindi è frutto di stratificazioni però non importa è quello che a me è rimasto nella mia fantasia di questo di questo gesto e soprattutto un gesto insegnato tanti anni prima da un'altra donna che lo ha amato molto che non è il mostro che forse pensiamo e che è la donna che lo ha fatto titubare è forse la donna che lo ha fatto titubare e allora in questo nodo che in greco si dice poi chilos poi chilos vuol dire variopinto ma anche complesso come la vita peraltro cioè vuol dire sfaccettato non è un nodo punto ok allora ho detto da qui il titolo se è un nodo che gli ha insegnato una maga non potrà che essere un nodo magico il magico però è mio non è dell'odissea ecco questo se posso aggiungerci una mia interpretazione adesso per collegarmi alla prossima domanda un po' fantagiosa è che in realtà un altro grande nodo magico all'interno della tua opera è il nodo tra i contenuti che ci stai raccontando che ci proponi anche se appunto ovviamente leggete il libro perché ci sono molti spunti in più di riflessione anche sulla propria vita oltre che sull'odissea quindi tra i contenuti e le parole il fascino dell'etimologia che in quasi tutte le pagine emerge preponderante e per chi non ha studiato il greco come la sottoscritta è un regalo grandissimo che ci fai ed è un nodo magico perché tiene insieme tutto tiene insieme i contenuti tiene insieme la forma tiene insieme il lessico per cui io ti chiederei visto che ci staranno anche guardando alcuni studenti se ci regali due etimologie così di due parole che ami molto così beh allora la prima ne parlavamo prima è la psuche questa è una parola che io quando l'ho scoperta a me ha colpito perché in greco sia anima che farfalla si dicono psuche se ci sono studenti che ascoltano sanno che in greco l'inferno è lo spirito la lunga la breve no queste due parole sono scritte identiche identiche che vuol dire chiaro il suono del soffio ricorda la farfalla ma pensando anche a quella bellissima statua di Canova non so se ce l'abbiamo quando come si chiama aiutami amore psichestanti che hanno in mano la farfalla no e la guardano entrambi hanno in mano la loro vita no cioè con quest'idea che l'anima e la farfalla hanno in comune una metamorfosi noi siamo destinati a cambiare per tutta quanta la vita per fortuna e per la nostra speranza è anche quella che ci sia qualcuno che ci fa passare da crisali da farfalla ecco perché questo è un altro tema no quello che qualcuno ci ami a sufficienza da portarci fuori da qua questa è la prima parola la seconda che mi piace tanto è desiderio che secondo me non è mai abbastanza ripetuta poi se ti viene in mente un'altra volentieri desiderio mi piace perché è una parola che ha a che fare con le stelle in latino sidera sono le stelle no quindi l'etimologia secondo gli antichi grammatici sarebbe questa che desidera indica un allontanamento da questo mondo delle stelle che per gli antichi era un punto un punto di riferimento fondamentale se volete poi anche per la navigazione ma non solo c'erano gli indovini chi li interpretava quindi allontanarsi da questo procurava questo senso di nostalgia di dolore di separazione il cui contrario esatto è considerare no? cioè come dire soffermarsi su un punto e fissarlo e poi mi hai detto due ma me ne viene anche una terza è nostalgia che secondo me che questa è allora è una parola bellissima perché di per sé l'etimologia è greca nostos è il viaggio algos è il dolore e lo troviamo algos in tutti i farmaci che ci vengono in mente ma non è cioè Ulisse è l'eroe della nostalgia l'uomo della nostalgia ma nostalgia non è una parola greca non c'è nell'odissea la parola nostalgia è io quando l'ho scoperto sono rimasta affascinata pensa che è stato scoperto da un ragazzo un laureando in medicina svizzero se ben ricordo che stava studiando un fenomeno particolare e cioè quel senso di dolore frustrazione malinconia che non aveva ancora un nome di un gruppo di soldati che era costretto a vivere lontano dalla casa e quindi questa cosa qua che non aveva ancora un nome si placava al momento del rientro nelle proprie abitudini nel proprio per poi ripartire allora lui ha messo insieme questi due vocaboli cioè il dolore del ritorno io la trovo è nata così è abbastanza recente come parola ed è una parola bellissima perché secondo me la nostalgia indica appartenenza grazie mille ci hai fatto viaggiare nelle lingue ma anche nel tempo così facendo assolutamente quindi doppiamente grazie grazie direi in chiusura di fare quello che chiediamo tutti i nostri ospiti di farci viaggiare anche nella letteratura degli altri e quindi di consigliarci una o due letture che tu ritieni particolarmente belle che ritieni utili per qualche cosa o semplicemente estremamente piacevoli allora io ho in mente due libri in particolare molto differenti fra di loro uno è i dialoghi con l'Eucon di Pavese che è meraviglioso cioè lui affronta tutti i personaggi del mito i personaggi principali e dedica un dialogo è una attualizzazione del mito che io trovo geniale per chi fosse appassionato del genere anche abbastanza semplice da leggere e poi l'altro devo dirti che è una scoperta recente che io mi sono innamorata di questo libro che è Cambiare l'acqua ai fiori che so che è un bestseller incredibile e mi ha colpito da morire non spoiler o nulla perché va gustato è uno di quei libri che quando si finisce dispiace la protagonista è una giovane signora con una vita molto particolare ricca di fantasia e quello che secondo me a me quello che mi ha lasciato è una donna con la passione per la vita per i dettagli e descritta così nel libro lo dice subito quindi siccome lei faceva una professione particolare lei usava sempre mettere un cappotto qualcosa fuori scuro per essere come dire molto seriosa ma sotto le spuntava sempre un vestito colorato e lei diceva da questo che la sua vera anima era questo rosso questi fiori che spuntavano sotto questo cappotto grigio ecco io lo trovo un modo di rappresentare spesso la nostra femminilità che è stato è veramente un libro magnifico magnifico ecco buona saperti se siete curiosi trovate anche la recensione sul sito è un invito alla lettura dei dialoghi con Leuco quindi tutti e due i testi sono stati toccati anche dalla nostra redazione non dubitavo intanto io mi permetto di consigliare la lettura del nodo magico sia che siate studenti sia che siate semplicemente appassionati al mondo omerico e vogliate indugiare anche su alcuni canti che a scuola appunto si trattano di meno o si trattano in fretta riscopritelo perché io anche se ho già letto due volte completamente l'odisea ho avuto la voglia di arrivare la terza ci siamo ci siamo e questo grazie a te Cristina ti fai un regalo allora sei guardato lo scritto nella prefazione esatto mi piacerebbe che qualcuno lo leggesse con di fianco l'odisea intera ecco con una buona traduzione dicevo farebbe un regalo a se stessa e a me sicuramente quindi vedi quindi benvenuti ci sarà la terza rilettura intanto grazie per essere stata con noi grazie a tutti coloro che ci stanno ascoltando grazie mille buona serata o buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti